Devo dire, lo dico ad alcuni amici di Sapri e di Polla, ogni tanto si organizzano manifestazioni un po' a capocchia, che la Regione Campania ha mandato di nuovo la richiesta al Ministero di approvazione in deroga dei punti nascita di Polla e di Sapri. Ancora non stanno rispondendo, quindi se si vogliono fare le manifestazioni le si facciano a Roma, davanti al Ministero. Ancora oggi il Ministero della Salute non ha approvato il nuovo piano ospedaliero della Regione Campania che prevede il DEA di primo livello a Sapri. Non so se queste notizie le hanno avute, se non le hanno avute gliele diamo noi. Ancora oggi il Ministero dorme. Allora mi auguro che, al di là di ogni demagogia, cominciamo a capire chi sono gli interlocutori e chi deve essere svegliato. Ad oggi l'unico interlocutore assente è il Ministero della Salute che è a Roma.